Un caso di pratica medica. Il professore aveva ricevuto un telegramma dalla fabbrica dei Lialikov. Lo pregavano di andarci al più presto. Era malata, la figlia di una certa signora Lialikov, a quanto pareva, proprietaria della fabbrica, ma null'altro si poteva capire da quel lungo telegramma redatto in modo sconnesso. Il professore non ci andò di persona, ma il luogo suo mandò il proprio assistente, Koroliov. Bisognava da Mosca viaggiare in treno fino alla seconda stazione e poi coi cavalli per un quattro verste. A prendere Koroliov fu spedito alla stazione un tiro a tre. Il cocchiere portava un cappello con una penna di pavone e a tutte le domande rispondeva forte alla maniera dei soldati. Niente affatto, proprio così. Era la sera di un sabato, il sole stava tramontando. Dalla fabbrica venivano alla stazione a frotte degli operai e si inchinavano ai cavalli coi quali viaggiava Koroliov. Ed egli era affascinato dalla sera, dalle case di campagna, dalle ville ai due lati e dalle betulle e da quell'atmosfera di quiete all'intorno, mentre pareva che insieme a quegli operai, in quel momento, vigilia di festa, si accendessero a riposare anche i campi e il bosco e il sole. A riposare, forse a pregare. Egli era nato e cresciuto a bosca. Non conosceva la campagna. Di fabbrica non si era mai interessato e non c'era mai stato. Gli era accaduto di leggere qualcosa sulle fabbriche, di essere ospite di fabbricanti e di conversare con essi. E quando vedevano qualche fabbrica, da lontano o da vicino, pensavo ogni volta che, ecco, tutto da fuori era silenzio e quiete, ma nell'interno ci dovevano essere la classa ignoranza e l'ottugio egoismo dei padroni. Il lavoro noioso e malsano degli operai, pettegolezzi, vodka e insetti. E ora, mentre gli operai si scostavano rispettosi e pavidi dalla carrozza, indovinava sulle loro facce, nei berretti e nell'andatura loro, la sporcizia fisica, l'ubriachezza, la nervosità, lo smarrimento. Entrarono nel portone della fabbrica. Da tutte e due le parti baluginavano casette di operai, vici di donne, biancheria e coperte sui terrazzini. — Scansati! — gridava il cocchiere senza trattenere i cavalli. Ecco un vasto cortile privo d'erba. In esso cinque enormi edifici con fumaioli, un po' discosti l'uno dall'altro, magazzini di merci, baracche, e su ogni cosa una certa patina grigia, come di polvere. Qua e là, come oasi nel deserto, i meschini giardinetti e i tetti verdi o rossi delle case, in cui vivevano gli impiegati dell'amministrazione. Il cocchiere a un tratto arrestò i cavalli e la carrozza si fermò davanti a una casa dipinta a nuovo di una tinta grigia. Lì c'era un giardinetto con piante di lillà coperte di polvere e un terrazzino giallo che odorava forte di vernice. — Favorite, signor dottore! — dicevano delle voci femminili nell'ingresso e nell'anticamera. E intanto si udivano sospiri e bisbigli. — Favorite! — abbiamo aspettato tanto! — Una vera disgrazia! — ecco, favorite qua! La signora Lialikov, classa, anziana, vestita in un abito nero di seta, con maniche alla moda, ma, a giudicare del viso, semplice e di poca istruzione, guardava il dottore con ansietà e non si risolveva a dargli la mano, non osava. Accanto a lei stava una figura coi capelli corti, il pisnezza e una camicetta screziata a colori, magra e non più giovane. La servitù la chiamava Cristina Dmitrievna e Koroliovi indovinò che era la governante. Probabilmente a lei, come la più istruita della casa, era stato dato l'incarico di accogliere e ricevere il dottore, perché si mise subito affrettandosi ad esporre le cagioni della malattia, con minuti fastidiosi particolari, ma senza dire chi fosse il malato e di chi si trattasse. Il dottore e la governanta erano seduti e parlavano e la padrona di casa stava in piedi, immobile, presso l'uscio, in attesa. Nella conversazione, Koroliov capì che era malata Liza, una ragazza di vent'anni, figlia unica della signora Lialikov, l'erede. Era malata già da lungo tempo ed era stata in cura presso vari dottori e l'ultima notte aveva avuto, dalla sera fino al mattino, un tal batticuore che nessuno in casa avrebbe dormito. Si era temuto che morisse. «L'abbiamo avuta sempre malatizia, si può dire, fin dall'infanzia», narrava Cristina Dmitrievna, con voce di canto, asciugandosi di continuo le labbra con la mano. «I dottori dicono che sono i nervi, ma quando era piccola i dottori le avevano fatto rientrare la scrofola e così, penso, che possa essere per questo». Andarono dalla malata, già proprio adulta, grande e di bella statura, ma brutta, somigliante alla madre, con gli stessi occhi piccini e con la parte inferiore del viso larga, eccessivamente sviluppata, malpettinata, coperta fino al mento, e la, nel primo momento, fece su Korolev l'impressione di una creatura disgraziata, misera, cui avessero dato l'iperpietà, assistenza, ricetto, e non si poteva credere che quella fosse l'erede dei cinque enormi edifici. «Eccoci a voi», incominciò Korolev. «Siamo venuti a curarvi. Buongiorno!» E gli disse il suo nome e le strinse la mano. «Una mano grande, fredda, brutta». Ella si posse a sedere e, abituata evidentemente già da un pezzo ai dottori, indifferente al fatto di avere le spalle e il petto scoperti, si lasciò auscultare. «Ho palpitazioni di cuore», disse. «Tutta la notte è stato un tale spavento. Per poco non sono morta dallo spavento. Datemi qualche cosa. Ve la darò, ve la darò. Calmatevi». Korolev la visitò e si strinse nelle spalle. «Il cuore è come deve essere», disse. «Tutto va bene, tutto in ordine». «Gi nervi probabilmente si sono sbizzarriti un pochino, ma è una cosa tanto comune. C'è da pensare che l'accesso sia ormai finito. Mettetevi giù a dormire». In questo momento fu portata nella camera una lampada. La malata strizzò gli occhi alla luce e tutt'un tratto si prese la testa fra le mani e cominciò a singhiozzare. E l'impressione di misera e brutta creatura sparve di colpo e Korolev non si accorse più, né degli occhi piccini, né della parte inferiore del viso grossolanamente sviluppata. Egli vedeva una dolce espressione di sofferenza, tanto assennata e commovente. e della tutta gli pareva snella, femminile e semplice. E l'avrebbe voluta calmare non con le medicine, non con i consigli, ma con una semplice parola affettuosa. La madre le cinse la testa e la serrò a sé. Quanta disperazione! Quanto dolore sul viso della vecchia! Lei, la madre, aveva allevato, cresciuto la figlia. Non aveva rispergato nulla. Aveva speso tutta la vita per farle imparare il francese, le danze, la musica. Faceva venire per lei una decina di precettori e i migliori medici. Teneva una governante e ora non capiva l'origine di quelle lacrime, il perché di tante pene. Non capiva ed era smarrita e aveva un'espressione da colpevole, ansiosa, disperata, come se avesse tralasciato qualche altra cosa molto importante. Non avesse ancora fatto qualcosa, non avesse ancora chiamato qualcuno. Ma chi? Non sapeva. Lizanka, tu di nuovo, tu di nuovo, diceva stringendo a sé la figlia. Mia diletta, colombella, bambina mia, dimmi, ti hai? Ambi pietà di me, dimmelo. Tutte e due piangevano amaramente. Koroliov, sedetta sull'orlo del letto, le prese Lizza per la mano. Basta, mette conto di piangere, disse carezzevole. Non c'è mica nulla al mondo che meriti queste lacrime. Su via, non piangiamo più. Non è necessario. E tra sé pensò. Sarebbe tempo che si maritasse. Il nostro dottore di fabbrica le dava del broguro di potassio, disse la governante, ma io noto che la fa solo star peggio. Secondo me, se sa da dare qualcosa per il cuore, ci sono le gocce. Ho dimenticato, come si chiamano, di Mughetto, che... E tornarono a seguire ogni sorta di particolari. E la interrompeva, il dottore, gli impediva di parlare e sul viso le stava scritta una sofferenza, come se supponesse, in quanto era la donna più istruita della casa, di aver l'obbligo di condurre una conversazione ininterrotta col dottore e mancabilmente di medicina. Koroliov provò noia. Io non trovo nulla di particolare, disse uscendo dalla camera e rivolgendosi alla madre. Se vostra figlia la curava il medico della fabbrica, continui a curarla. La cura finora è stata giusta e io non vedo la necessità di cambiare medico. A che scopo cambiare? È una malattia così comune, non c'è nulla di grave. E gli parlava senza fretta, infilandosi i guanti, mentre la signora Lialikov stava immobile e lo guardava con occhi lacrimosi. Per il treno delle dieci rimane una mezz'ora, disse egli. spero di non far tardi. E non vi potreste fermare da noi? domandò Ella e di nuovo le lacrime le colarono per le guance. Ho scrupolo di incomodarvi, ma siete così buono. Per l'amor di Dio, seguitò a mezza voce voltandosi a guardar l'uscio. Passate la notte da noi. Ho lei sola, è figlia unica, ma spaventata la notte scorsa. Non mi posso riavere. Non partite, per l'amor di Dio. Egli le voleva dire che a Mosca aveva molto lavoro, che a casa lo aspettava la famiglia. E era gravoso trascorrere in casa da altri senza necessità tutta la sera e tutta la notte, ma volse gli occhi al viso di lei, sospirò e cominciò in silenzio a levarsi i guanti. Nella sala e nel salotto accesero per lui tutte le lampade e le candele. Stette seduto accanto al pianoforte e sfogliò la musica, poi osservò i quadri e i ritratti sulle pareti. Sui quadri, dipinti a olio, entrò cornici dorate. c'erano vedute della Crimea, un mare in tempesta con un piccolo bastimento, un monaco cattolico con un bicchierino e tutto ciò era freddo, leccato, mediocre. Nei ritratti non un viso bello, interessante, tutti zigomi larghi e occhi meravigliati. Lealikov, il padre di Liza, aveva una fronte piccina e una faccia soddisfatta di sé. L'uniforme gli stava, sul corpo grosso e non di razza, come un sacco. sul petto aveva una medaglia e l'emblema della croce rossa. In ogni cosa, povertà di cultura, un lusso casuale, non meditato, scomodo, come quell'uniforme. I pavimenti irritavano col loro luccichio, il lampadario irritava e veniva in mente chissà perché il racconto su quel mercante che andava al bagno con una medaglia al collo. Dall'anticamera lungiva un sussurrio, qualcuno russava piano e a un tratto si udirono nel cortile dei suoni metallici, stridenti e rotti, quali Khoroliov non aveva mai udito prima e che ora non capiva. Essi gli si ripercotevano nell'anima in modo strano e sgradevole. Mi pare che a nessun costo rimarrei a vivere qui, pensò e riprese in mano la musica. Dottore, favorite a venire a mangiare un boccone, lo chiamò sotto voce la governante. Andò a cena. La tavola era grande, con una quantità di antipasti e di vini, ma erano solo in due a cenare, lui e Cristina Dmitrievna. Ella beveva madera, mangiava in fretta e diceva, dettando gli occhiate attraverso il Pinsnez, gli operai sono contentissimi di noi. Nella nostra fabbrica ogni inverno ci sono spettacoli, recitano gli operai stessi, poi conferenze con la lanterna magica e una splendida sala da tè e mi pare che altro ancora. Ci sono molti devoti e quando hanno saputo che l'Izanca era peggiorata, hanno fatto dire un tedeum. Non sono istruiti, ma anche loro sono sensibili. Mi sembra che in casa da voi non ci sia nemmeno un uomo, disse Koroliov, neppure uno. Dottor Nikaronic morì un anno e mezzo fa e noi siamo rimaste sole. E così viviamo in tre. L'estate è qui ed inverno a Mosca, sulla Polianca. Io vivo in casa loro ormai da undici anni. Sono come di famiglia. A cena furono serviti storioncini, costolette di pollo e conserva di frutta. I vini erano di prezzo, francesi. Voi, dottore, per piacere, non fate cerimonie, diceva Cristina Dmitrirovna mangiando e asciugandosi la bocca col pugno. E si vedeva che viveva lì a tutto a suo agio. Per favore, mangiate. Dopo cena il dottore fu condotto in una stanza dove era stato preparato un letto per lui, ma non aveva voglia di dormire. Si sentiva soffocare e nella stanza c'era odor di vernice. Indossò il cappotto e uscì fuori. Nel cortile faceva fresco, da spuntava l'alba e nell'aria umida si disegnavano nettamente tutte e cinque gli edifici con i loro lunghi fumaioli, le baracche e i magazzini. Poiché era festa, non si lavorava. Le finestre erano buie e solo in uno degli edifici ardeva ancora un forno. Due finestre erano di un rosso porpora e dal fumaiolo usciva ogni tanto insieme col fumo la fiamma. Lontano di là, dal cortile, gracidavano le rane e cantava un signolo. Egli, guardando gli edifici e le baracche dove dormivano gli operai, tornava a pensare a ciò a cui pensava sempre quando vedeva le fabbriche. Ci fossero pure gli spettacoli per gli operai, le lanterne magiche, i medici di fabbrica e svariati miglioramenti. Ma tuttavia, i lavoratori che gli aveva incontrato quel giorno venendo dalla stazione non si distinguevano per nulla all'aspetto da quegli operai che aveva veduto tanto tempo prima nell'infanzia quando non c'erano ancora gli spettacoli di fabbrica e i miglioramenti. Egli, come medico che giudicava correttamente dei mali cronici, la causa originaria dei quali era incomprensibile e incurabile, considerava anche le fabbriche come un malinteso da cui il cagione era del pari oscura e insopprimibile e tutti i miglioramenti della vita degli operai di fabbrica non li stimava superflui ma li paragonava alla cura delle malattie inguaribili. Qui c'è un malinteso di certo pensava guardando le finestre imporporate 1500 2000 operai lavorano senza riposo in un ambiente malsano fabbricando un cattivo cotone stampato non si tolgono la fame e solo ogni tanto alla bettola si riscuotono da quest'incubo un centinaio di persone sorvegliano il lavoro e tutta la vita di questi cento se ne va nel signarvulte in ingiurie e ingiustizie e soltanto due o tre i cosiddetti padroni godono dei vantaggi benché non lavorino affatto e disprezzino il cattivo cotone stampato ma quali vantaggi e come ne godono la Lialikov e sua figlia sono infelici fa pena guardarle vive a piacere suo la sola Cristina Dmitrievna una ragazza matura e sciocchina col pince-nez e ne viene dunque che tutti questi cinque corpi di fabbrica lavorano e sui mercati orientali si vende un cattivo cotone stampato solamente perché Cristina Dmitrievna possa mangiare storioncini e bere madera a un tratto eccheggiarono strani suoni quegli stessi che Koroliov aveva udito prima di cena vicino a uno degli edifici qualcuno batteva su una lastra metallica batteva e subito dopo tratteneva il suono cosicché ne seguivano dei colpi brevi aspri non nitidi simili a un der der poi mezzo minuto di silenzio e presso un altro edificio e che davano dei suoni ugualmente rotti e sgradevoli ma più bassi gravi dring 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 silenzio notturno e mettesse questi suoni il mostro in persona con gli occhi di porpora il diavolo stesso che lì dominava e sui padroni e sugli operai e ingannava gli uni e gli altri Koroliov uscì dal cortile nei campi chi va là lo chiamarono presso il portone con voce rude come in un carcere pensò e non rispose nulla lì gli signoli e le rane si udivano meglio si aveva la sensazione della notte di maggio dalla stazione giungeva il rumore di un treno cantavano in qualche posto i galli assonnati ma tuttavia la notte era quieta il mondo dormiva placidamente nei campi non lontano dalla fabbrica sorgeva un'armatura di legno sarà lì accatastato del materiale da costruzione Koroliov sedette sulle assi e continuò a pensare qui si trova bene la sola governante e la fabbrica lavora per il suo piacere ma questo sembra soltanto lei è qui solo una persona fittizia il personaggio principale per cui qui si fa tutto è il diavolo ed egli pensava al diavolo nel quale non credeva e si voltava a guardare le due finestre dove splendeva la fiamma gli pareva che con quegli occhi di porpora lo stesse guardando il diavolo in persona quella forza ignota che aveva creato le relazioni tra i forti e i deboli il grossolano errore che ora in nessun modo si sarebbe potuto riparare era necessario che il forte impedisse al debole di vivere tale era la legge della natura ma ciò trovava posto nel pensiero in modo comprensibile e facile solo in un articolo di giornale o in un libro scolastico in quel guazzavuglio invece che è rappresentato dalla vita quotidiana nel groviglio di tutte le minuzie di cui sono intessuti i rapporti umani quella non è più una legge ma un'incongruenza logica quando il forte e il debole cadono vittime ugualmente delle loro scambievoli relazioni assoggettandosi senza volere a una certa forza direttiva sconosciuta che sta fuori della vita ed è estranea all'uomo così pensava Koroliov seduto sulle assi e a poco a poco si impossessava di lui uno stato d'animo come se quella forza ignota misteriosa fosse in realtà vicina e lo guardasse intanto l'oriente si faceva sempre più pallido e il tempo passava rapidamente i cinque edifici e i fumaioli sullo sfondo grigio dell'alba mentre intorno non c'era un'anima quasi che tutto fosse morto avevano un aspetto particolare non quale di giorno e era del tutto uscito di mente che lì dentro c'erano motori a vapore elettricità a telefoni e invece gli veniva fatto di pensare continuamente alle costruzioni su palafitte all'età della pietra e di sentire la presenza di una forza brutta incosciente e sudì di nuovo der 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 dodici volte poi silenzio silenzio per un mezzo minuto ed ecco eccheggiare all'altro estremo del cortile dream 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 una cosa terribilmente spiacevole pensò koroliof e che giò in un terzo posto in modo rotto aspero come stizzoso e perché battessero le dodici occorsero un quattro minuti poi silenzio e di nuovo un'impressione come se tutto fosse morto all'intorno koroliof restò seduto ancora un poco poi tornò in casa ma non si colicò ancora per lungo tempo nelle stanze vicine si bisbigliava si udiva uno strascicchio di pantofole e di piedi scalzi non avrà mica un nuovo accesso pensò koroliof e gli uscì per zettare uno sguardo alla malata nelle stanze era già chiaro del tutto e nella sala tremolava su una parete e sul pavimento un debole raggio di sole penetrato lì attraverso la nebbia mattutina l'uscio della camera di liza era aperto e lei stava seduta in una poltrona accanto al letto in vestaglia avvolta in uno scialle spettinata le tendine della finestra erano abbassate come vi sentite domandò koroliof vi ringrazio le tastò il polso poi le rabbiò i capelli che erano scivolati sulla fronte voi non dormite disse fuori c'è un tempo bellissimo è primavera cantano gli usignoli e voi ve ne state al buio e pensate chissà che e la ascoltava e lo guardava in viso i suoi occhi erano malinconici intelligenti e si vedeva che gli voleva dire qualcosa questo gli accade spesso e gli domandò spesso quasi ogni notte mi sento male in questo momento nel cortile i guardiani cominciarono a battere le ore si udì der der ed ella sussultò vi inquietano questi colpi domandò egli non so qui tutto mi inquieta e la rispose si fece pensosa tutto mi inquieta nella vostra voce sento dell'interessamento e fin dal primo sguardo che vi ha rivolto mi è parso non so perché che con voi si possa parlare di tutto parlate vi prego vi voglio dire la mia opinione mi pare di non avere una malattia ma di inquietarmi e di provare paura perché deve essere così e non può essere altrimenti nemmeno la persona più sana può non inquietarsi se per esempio sotto la sua finestra si aggira un malfattore mi sicura spesso e la continuò guardandosi i ginocchi e sorrisse timidamente io certo ne sono molto grata e non nego l'utilità delle cure ma vorrei discorrere un po' non con un dottore ma con una persona intima con un amico che mi capisse e mi convincesse che ho ragione o che ho torto forse che non avete amici domandò Korolioff io sono sola ho mia madre e le voglio bene ma tuttavia sono sola così è andata la vita i solitari leggono molto ma parlano poco e poco sentono dire la vita per loro è misteriosa sono mistici e spesso vedono il diavolo dove non c'è la Tamara di Lermontov era sola e vedeva il diavolo e voi leggete molto? molto tutto il mio tempo libero da mattina a sera di giorno leggo e la notte ho la testa vuota e in luogo di pensieri ho non so che ombre voi vedete qualche cosa la notte? domandò Korolioff no ma ne ho la sensazione tornò a sorridere e alzò gli occhi sul dottore guardandolo con aria così triste così intelligente e a lui pareva che gli avesse fiducia e volesse parlare con lui sinceramente e che la pensasse al suo stesso modo ma ella taceva e forse aspettava che si mettesse a parlare lui ed egli sapeva che cosa dirle per lui era chiaro del pari che ella stessa la pensava così e aspettava soltanto che qualcuno in cui aveva fiducia glielo confermasse ma egli non sapeva come dir questo come? a condannati si ha vergogna di domandare per che cosa siano stati condannati così anche alle persone molto ricche si è imbarazzati a domandare a che scopo abbiano tanto denaro perché dispongano così malamente della loro ricchezza perché non vi rinunzino nemmeno quando scorgono in essa la propria sventura e se si comincia una conversazione al riguardo essa di solito riesce timida impacciata e lunga come dirle esitava Koroliov e poi è necessario parlare e disse quel che voleva non direttamente ma per vie traverse voi nella vostra condizione di proprietaria della fabbrica e di ricca erede siete scontenta non credete nel vostro diritto ed ecco che ora non potete dormire questo certo è meglio che se foste contenta dormiste sodo e pensaste che tutto va bene la vostra insonnia è rispettabile comunque sia è un buon segno in realtà per i nostri genitori non sarebbe stata pensabile una conversazione come la nostra di adesso la notte essi non discorrevano ma dormivano sodo noi invece della nostra generazione dormiamo male ci tormentiamo parliamo molto e discutiamo sempre se abbiamo ragione o no ma per i nostri figli o nipoti questa questione se essi avranno ragione o no sarà già stata risolta essi potranno vedere meglio di noi bella sarà la vita tra una cinquantina d'anni peccato soltanto che noi non ci arriveremo sarebbe interessante gettarci un'occhiata e che cosa faranno i figli e i nipoti domandò Lisa non so probabilmente pianteranno tutto e se ne andranno e dove se ne andranno dove dove garbera loro disse Koroliov e si mise a ridere sono forse pochi i posti dove può andarsene una persona buona e intelligente gettò uno sguardo all'orologio già si è levato il sole però disse per voi è ora di dormire spogliatevi e fate una buona dormita sono felicissimo di aver fatto la vostra conoscenza continuò stringendole la mano siete una brava interessante creatura buonanotte egli se ne andò in camera suba e si colicò la mattina del giorno dopo quando fu fatta accostare la carrozza tutti uscirono sulla scalinata per accompagnarlo Lisa era vestita a festa con un abito bianco e un fiore nei capelli pallida languida lo guardava come il giorno prima con aria triste e intelligente sorrideva parlava e sempre con un'espressione come se gli volesse dire qualcosa di particolare di importante a lui solo si udivano cantare le allodole e sonare le campane della chiesa negli edifici della fabbrica le finestre sfolgoravano lietamente e passando attraverso il cortile e poi per la strada verso la stazione Koroliov non si ricordava più né degli operai né delle costruzioni su palafitte né del diavolo ma pensava al tempo forse ormai vicino in cui la vita sarebbe stata luminosa e gioconda come quella placida mattina domenicale e pensava com'era piacevole in una simile mattina di primavera andarsene in un tiro a tre e in una buona carrozza e scaldarsi al solicello che si faccia e scaldarsi al solicello e scaldarsi al solicello e scaldarsi al solicello Grazie a tutti